eccoci e bentornati sul mio canale riprendiamo con le guide dedicate a call of duty black ops 4 come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty piccola curiosità prima di iniziare a parlare di blackout perché lo streamer di twitch josh og è stato il primo al mondo ad aver sbloccato ragazzi il master prestige di blackout quindi il prestigio massimo della battle royale di black ops 4 ha raggiunto già il livello 81 ovviamente a livello 81 si sbloccherà il logo prestigio con il teschio e il serpente che si incastra in un occhio e ovviamente anche la skin del personaggio con il soldato militare quindi già hanno raggiunto qui il livello massimo di blackout che è fissato all'81 ritorniamo appunto a parlare di blackout perché è stata rilasciata una mappa interattiva veramente molto comoda per chi ha le prime armi di blackout ma anche per i veterani perché è veramente molto molto comoda riportata dal sito minmax.gg in collaborazione con l'utente sergi17 di reddit.com vi lascio qui sotto il link in descrizione così la potrete andare a vedere nel dettaglio interattiva perché potrete selezionare o meno determinati oggetti sulla mappa ma soprattutto si potrà ingrandire e quindi zoomare vediamo ci sono ben 6 diversi punti da controllare innanzitutto ci fa vedere le zone dove praticamente potremo andare sottoterra quindi quelle sorte di bunker potremmo vedere ad esempio su Nuketown Island arrivando appunto dall'isola c'è il bunker che poi ci fa tornare appunto sopra all'isola c'è un altro ad esempio a Fracking Tower un altro ad Array inoltre ci fa vedere dove vanno a spawnare gli elicotteri sono veramente molto comodi soprattutto quando abbiamo la tempesta che ci sta venendo a prendere ad esempio c'è a cantiere e a ville vicino a Far Range a parco eolico ce ne sono ben due quindi veramente diversi punti dove poter avere l'elicottero così già sappiamo praticamente come muoverci un altro addirittura è a cargo molte volte a cargo è possibile trovare anche il gommone poi vediamo le mystery box lo spawn delle mystery box è sempre una ville uno a manicomio come logico che sia un altro ovviamente a Far dove molte volte si trovano gli zombies e poi ci sono i punti dove andare a lutare sia le zone piccole indicate appunto con una sorta di sacchetto viola e poi ovviamente le case le costruzioni quelle che vanno da 3 a 4 indicate con una singola casetta rossa mentre più costruzioni vengono indicate con 3 casette rosse quindi 5 più questa secondo me è veramente molto comoda ragazzi sia per chi ha le prime armi quindi sa dove andare praticamente a prendere le cose sia per chi non vuole andare nei punti più affollati e così può andare in punti fuori praticamente dalle mappe principali per andare a lutare e poi entrare nelle zone più trafficate così ha un equipaggiamento già ben strutturato e non deve andare subito all'attacco una volta che si è buttato dall'elicottero qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere a che livello siete arrivati su blackout lasciate un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty e noi ci vediamo ad un prossimo video grazie